Questa videotesi ha l'obiettivo di indagare sul rapporto fra realtà e finzione nel cinema. Il reale sembra alle volte superare la finzione trasposta sul grande schermo e viceversa la finzione filmica spesso ci pare rispecchiare ed avvicinarsi al reale. Sin dalle origini il cinema ha svolto un ruolo ambivalente, sia come mezzo per rappresentare il reale, assumendo una connotazione documentaristica come Lumiere J.R. Flaherty, sia come luogo di fuga dalla realtà, come nel cinema di Georges Méliès. Il nostro interesse è rivolto a quel cinema che si ispira al reale, o perlomeno a un certo tipo di cinema di finzione che ambisca comunque rappresentarlo in qualche modo. Infatti, il reale è complesso da spiegare e da razionalizzare e i film non riescono a farlo appieno. Questi piuttosto, come ogni testo, selezionano una porzione della realtà, componendola e dandone continue estensioni, facendoci vivere vite e mondi paralleli, ma allo stesso tempo esorcizzando lo stesso reale. Alcuni fruttori di cinema usufruiscono di tale mezzo per fuggire dal reale e andare alla ricerca di altri mondi e realtà alternative. Altri, invece, vengono colti di soppiatto da film di ogni genere, dagli horror alle distopie. Così lo spettatore può ritrovarsi in un mondo possibile e simile al suo reale. Un esempio seminale è il caso dell'11 settembre 2001, che ha visto il mondo catapultato in una dimensione propria del cinema catastrofico. Infine, la mia videotesa ha il compito di riflettere sulla rappresentazione di frammenti del reale attraverso quattro film che variano per genere e soprattutto per stile registico, insistendo sempre sul concetto di complessità del reale. Contagion è un film del 2011, diretto da Steven Soderbergh. La pellicola si può collocare nel genere dei disastri movie e si può definire una metatopia, ovvero una narrazione in cui il mondo possibile è rappresentato in una fase futura di un mondo reale presente. La trama del film è semplice. Un virus proveniente dalla Cina fornirà rapidamente l'intera popolazione mondiale. In risposta, una commissione scientifica cercherà di impedire il propagarsi della pandemia e cercherà di trovare un vaccino che possa sconfiggere il virus. Il film rappresenta con estremo realismo le reali conseguenze di un'emergenza sui vari aspetti della società. Soderbergh ha condotto uno studio approfondito a livello scientifico, ricercando un forte realismo grazie al consulto di esperti e soprattutto al Centers of Disease Control and Prevention della Georgia. Infatti, gli è stato riconosciuto di aver saputo prevedere le situazioni sociali che si sono presentate con l'attuale pandemia. Il regista, per la resa verosimile del film, ha confutato tutte le epidemie avvenute nel corso della storia umana. Come la commissione scientifica all'interno della pellicola cerca il vaccino contro il MEV-1, allo stesso tempo Soderbergh e tutta la sua equip creativa è la ricerca del realismo. Ma come ha reagito il pubblico davanti a questo realismo? Innanzitutto, per rispondere a questo quesito dobbiamo dividere il pubblico in due tipologie, il pubblico del 2011 e il pubblico del 2020. Nel primo caso, il film alla sua uscita non ebbe un successo virale, ma venne molto apprezzato dalla critica per la sua forte credibilità e la sua componente thrilling. Venne persino dedicato a un servizio della CBS, Cued Contagion Virus Happened in Real Life, che mostrava, attraverso alcune interviste condotte all'uscita della proiezione, come il pubblico già all'epoca provò una sensazione di terrore e inquietudine, legata al solo pensiero che una situazione del genere potesse accadere. D'altro canto, lo spettatore del 2020, in pieno lockdown, deciderà di guardare alla TV Contagion, scelta che ha portato alla pellicola quel successo virale dovuto alla voglia di esorcizzare la paura attraverso il cinema. Prendiamo ora in esame Contagion per quanto concerne la narrazione. Il film è diviso in 135 giornate. Attraverso questa partizione, il regista decide di far iniziare il film dal secondo giorno. La struttura narrativa del lungometraggio rispetta una struttura effetto-causa. Per prima cosa, ci vengono mostrati i sintomi del virus. In seguito, procedendo attraverso la scansione delle varie giornate, la commissione scientifica cerca di capire quali siano le origini del MEV-1 e trovarne una cura. Infine, trovato il vaccino, la pellicola ci mostra la causa di tutto, presentandoci il day one. Questo percorso conduce il fruitore ad adottare il ragionamento abduttivo, tipicamente usato dai detective. Questo tipo di ragionamento è strutturato su una serie di operazioni concettuali complesse, dette inferenze, che sono caso, risultato, regola. Nell'abduzione queste inferenze sono strutturate nel seguente ordine, risultato, regola e caso. Grazie a ciò, possiamo esemplificare il film in queste categorie. Risultato, effetti e sintomi procurati dal virus. Regola, si sperimentano soluzioni possibili per placare il contagio. Caso, presentazione dell'origine del virus. È necessario approfondire la questione del complottismo presentata all'interno della pellicola per fini narrativi attraverso un solo personaggio. Alan Cramweedy, interpretato da Jude Law. Alan gestisce il blog Truth Serum Now, in cui sparge false informazioni riguardanti il virus. Arriva persino a proporre un farmaco omeopatico, dal nome Forsizia. Grazie al quale il nostro blogger dice di essere guarito dal virus. Il film di Soderbergh è riuscito a trattare con cura vari aspetti narratologici legati alle teorie del complotto. Nonostante si tratti di un film del 2011, Internet è già ampiamente rappresentata come rete che diffonde false notizie, che amplifica e le consolida per i fruitori di questo mondo. All'interno del film viene avanzato una visione semplicistica di Internet, in cui viene visto nella sua forma più negativa, quando invece, come abbiamo potuto constatare, nel mondo reale, questa ha saputo dare un senso di solidarietà e supporto per i paesi più in crisi. Oltretutto, il lungometraggio ha già saputo confutare la fase delle finte cure al virus. Se nel film c'è la Forsizia, noi abbiamo avuto casi come A-V-Gun, fantomatico farmaco divulgato anche in Italia da un blogger attraverso un video realizzato in Giappone, la cui premessa è Che ragazzi stanno nascondendo la verità. Da queste premesse inizia la scalata al breve successo del complottista, che verrà intervistato da Talkshow e condiviso su ogni possibile social. In questo caso, ad esempio, è avvenuta successivamente una leggera smentita delle affermazioni dette, che non hanno comunque avuto il potere di invertire sul processo di diffusione e di credenza a una falsa notizia. Il regista americano Bart Layton decide di ispirarsi alla storia vera della rapina avvenuta alla Transylvania University a Lexington, Kentucky nel 2004. Appunto decide di trasporre sul grande schermo i fatti realmente accaduti con il film del 2018 American Animals. La trama del film vede Spencer e Warren, due amici che frequentano l'università locale di Lexington. I due decideranno di dare una svolta alla loro vita, ovvero rubare la collezione di libri rari contenuti nella biblioteca universitaria. Successivamente i due arrolleranno altri due compagni di università e, finiti gli ultimi dettagli della rapina, gli aspetterà una serie di imprevisti. Il lungometraggio appartiene al genere di film tratti da una storia vera. Il regista gioca con il pubblico già dai titoli di testa, presentandoci la frase questo film non è ispirato a una storia vera, per poi trasformarla in questo film è una storia vera. Inoltre, sin da subito, la pellicola esprime la sua doppia natura, ovvero quella documentaristica e quella filmica. Il regista, infatti, decide di fondere l'archetipo cinematografico dell'Haste Movie con il mondo del documentario, diminuendo così le distanze tra reale e filmico. Per questo motivo, nelle prime fasi della lavorazione del progetto, l'autore ha assunto un approccio documentaristico, riprendendo tramite interviste le varie versioni dei reali protagonisti del fatto di cronaca, per poi proseguire successivamente con le riprese del film vero e proprio. Le versioni dei veri protagonisti della storia, pregne di discordanze e dimenticanze, faranno da Deus Ex Machina nel racconto, modificando la messa in scena e lo svolgimento della narrazione a livello filmico. Oltretutto, verranno inseriti i veri Warren e Spencer, che interagiscono con gli interpreti di loro stessi, in cui faranno da testimoni del loro passato o viceversa i loro interpreti fanno da testimoni del destino dei personaggi che interpretano. Lo spettatore, tipicamente da ogni film o documentario, riesce a immedesimarsi nel personaggio o in un fatto credibile che sta osservando, ma in questo caso ci riesce parzialmente, grazie all'espediente dell'interpellazione. Non solo lo sguardo degli intervistati finisce in camera, ma anche quello dei loro interpreti, fungendo da passaggio cortocircuitale tra finzione e documentario. Oltretutto, questo è accentuato dai continui cambiamenti di messa in scena, a seconda del cambio di versione che viene avanzata, destabilizzando così la visione dello spettatore. Il film, essendo basato su un fatto di cronaca, rispetta volontariamente i tipici cliché del caso, ovvero familiari o conoscenti degli artefici o vittime, che dicono frasi come Erano dei gran bravi ragazzi. Non ci saremmo mai aspettati che il nostro figlio potesse fare una cosa del genere. Fino ad arrivare a un sincero pianto paterno. Queste frasi, che siano di circostanza oppure no, serviranno a empatizzare con il pubblico, facendolo entrare in un mood drammatico e in certi casi melenso, fino a quando non ci vengono presentati di persone ai ragazzi, che non sono proprio come ce li potremmo immaginare. Infatti, Warren Lipka, Spencer Reynard, Charles Allen ed Eric Borsuch non sono dei cosiddetti white trash provenienti da una sporca e corrotta periferia americana, anzi tutt'altro. Sono persone di buona famiglia, con chiari obiettivi nelle loro vite. L'unico che si distingue forse è Warren, senza comunque avere una condizione tanto problematica da far sospettare una azione di questo tipo. Ciò che li unisce è la voglia di svoltare ed andare incontro ad un brivido che solo al cinema si può provare. Infatti, quattro ragazzi percepiscono il loro reale come noioso e privo di stimoli. Per questo vogliono abbracciare un mondo di finzione che apparentemente non gli appartiene. Lo stesso Spencer, che è l'artista del gruppo, si mette a confronto con le biografie di altri pittori, notando una mancanza di traumi e problemi nel suo percorso artistico. I nostri protagonisti si basano di continuo su testi cinematografici e certe volte si immedesimano in essi, creando un'ideale rapina. Ma la realtà dei fatti ritorna sempre colpendoli duramente, come infatti gli è accaduto. Nel 1994 il regista austriaco Michael Haneck con 71 frammenti di una cronologia del caso, pone fine alla trilogia della glaciazione, composta da Il settimo continente del 1989 e da Benny's video del 1992. Il film presenta vere scene di servizio di telegiornale alternate con scene di vita quotidiana ricreate a livello filmico, il tutto intervallato da transizioni in nero che con l'avanzare della pellicola si porteranno al tragico finale. La pellicola del 94 inizia con una scritta caratteri bianchi su sfondo nero che riporta Il 23 dicembre 1993, Maximilian B., uno studente di 19 anni, ha sparato a tre persone in una banca viennese e poco dopo si è ucciso con un colpo alla testa. Per poi proseguire con un telegiornale austriaco datato 12 ottobre 1993. Il regista è interessato a chi guarda questo telegiornale, ovvero le persone appartenenti alla realtà quotidiana. Sceglie così di dare spazio a diversi individui e situazioni appartenenti al mondo reale, raccontandolo nella sua natura casuale. Per Anneke, la realtà si basa su frammenti. Ogni singola persona che vive la propria vita non saprà mai cosa capita a un'altra persona, anche se vive nella sua stessa città. L'essere umano è destinato a vivere una vita fatta di fuoricampi. Nella nostra contemporaneità, in cui i media sono diventati parte attiva del mondo in cui viviamo, si ha l'impressione di avere una visione ampia della vita delle altre persone tramite i social network e tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo a nostra disposizione. Tuttavia, noi non riusciamo a vedere che è una porzione di tutto questo, ovvero ciò che ci interessa e non la realtà nella sua interezza, in quanto è impossibile. Anneke, analizzando la sua contemporaneità, riproduce la realtà nelle diverse forme di rapporti tra le persone e gli frammenta ogni singola sequenza con uno sfondo nero per accentuare ciò che è oscuro a noi umani e conoscere l'interezza del reale nella sua essenza caotica. Questa frammentazione caotica del reale ci viene presentata nel film tramite il gioco della croce, che consiste nel comporre la figura di una croce utilizzando ritagli di carta di varie forme geometriche, in un tempo prestabilito. Nei frammenti in cui è presente questo rompicapo, coloro che provano a risolverlo falliscono. L'unico che vi riesce è il suo creatore. Tale passatempo sembra metaforicamente rappresentare la reazione del pubblico che, di fronte a questo film, cercherà di darne un senso collegando i pezzi. Anneke, scomponendo le scene, spezza la tensione impedendo una immedesimazione nei personaggi nelle diverse sequenze. Lo spettatore si chiede qual è il punto di arrivo del film. Il regista darà una risposta. Il gioco della croce è un corrispettivo del reale nel film. Per questo motivo uno degli studenti universitari, Max, alienato dalla vita e non riuscendo a risolvere il gioco, quindi non comprendendo il reale, risponde con la violenza sul finale della pellicola. L'iconismo della croce, appartenente al gioco, ritorna sul finale, portando alla morte. La croce si pone come pietra tombale del film. La cattura delle immagini ci porta alla frase espressa da Michael Anneke in un'intervista riguardo a 71 frammenti. Partendo da questa frase, possiamo analizzare un'altra delle storie frammentate del film, quella del bambino immigrato. Il ragazzino gira per Vienna come senza tetto. La sua vita non è piacevole, infatti ruberà un fumetto poiché l'unica forma di conforto la trova nelle immagini. Successivamente ruberà una videocamera, che da quel momento diventerà il suo filtro per il mondo reale. La videocamera cattura infatti immagini apparentemente belle, dal momento che il mondo che vive il ragazzino è triste. Questo concetto di rubare situazioni dal reale ci porta all'immagine della televisione nel film, che per l'appunto cattura le immagini documentando a suo piacimento il reale. Infatti, a fine film, si realizza concretamente quanto detto all'inizio della pellicola. Dopo la carneficina, i nostri personaggi, dalla dimensione verosimile ricreata da Anneke, verranno assimilati dalla televisione, che documenta la loro fine. La visione cinica del reale viene accentuata dalla visione altrettanto cinica del mondo della finzione, che ruba alla realtà la sofferenza, facendola scorrere tra le notizie di un telegiornale qualsiasi, rendendola lontana agli occhi degli spettatori. L'ultimo film che andiamo ad analizzare, datato 1980 dalla regia di Ruggero Deodato, è Cannibal Holocaust. Questo film fa parte del filone dei Cannibal Movie, nato nel 1972 con Il Paese del Sesso Selvaggio di Umberto Lenzi e successivamente con Ultimo Mondo Cannibale, sempre di Ruggero Deodato del 77. La trama di Cannibal Holocaust è la sequente. Il professore Harold Monroe si trova nella foresta amazzonica, sulle tracce di quattro reporter scomparsi. Andrà incontro ad una tribù di indios cannibali, che possiede i cadaveri dei reporter e soprattutto il materiale da loro girato. Questo materiale conterrà scene degli atti efferati compiuti sia dalla troupe sia dalle tribù dei cannibali. Questa pellicola si pone come capo stipite del Moku Horror, genere che appartiene alla famiglia dei Mokumentari e che si contraddistingue per la creazione di materiale finto fan footage, che viene trovato all'interno della narrazione filmica e che mostra le riprese degli ultimi attimi di vita delle persone scomparse o morte misteriosamente. Lo scopo del Mokumentari è quello di far apparire fattuali gli universi inventati. Infatti il Moku Horror cerca di appropriarsi di un mondo fattuale con la dimensione orrorifica, per colpire violentamente lo spettatore, che a fine proiezione dirà, it could be me. Nel caso di Cannibal Holocaust, ciò che ci viene mostrato per la prima volta è la paura. Infatti nel film troveremo finti decessi, vere uccisioni di animali, nonché la scomparsa degli attori per rendere veritiera la loro morte nella vicenda narrata. E' noto che nella pellicola di Diodato non sono stati commessi omicidi, se non nei confronti degli animali, ma egli ha fatto credere al mondo intero che ciò che aveva ripreso fosse reale. Infatti il regista fu processato ed il film è ritirato dopo poche settimane dalle sale. Questo grazie alla fine lavoro di manipolazione svolto dall'autore dell'opera. Infatti per rendere i rulli ritrovati verosimili, l'autore ha deciso di graffiare la pellicola sia per una maggiore aderenza narrativa che formale, ovvero più è bassa la risoluzione, meno alto lo sforzo cognitivo di sospensione dell'incredulità. Ciò è stato possibile anche grazie all'acuta scelta di un cast di attori sconosciuti. Ma come nasce un prodotto audiovisivo come Cannibal Holocaust? Il regista si ispirò ai violenti reportage di guerra trasmessi in televisione. Da questo spunto ebbe l'idea del film, con la successiva creazione dei reportage e fa un footage di Alan Yates, il reporter nella pellicola. The Green Inferno, il reportage ritrovato da Monroe, serve a mostrarci la realtà dei fatti. La mancanza del montaggio ha favorito la scoperta delle crudeltà compiute dai giovani a favore di camera. Qui assistiamo alla cruda realtà sotto il punto di vista dei reporter che irrompono nella quiete delle tribù dei cannibali per catturare con le loro cineprese la violenza. Vedremo lo sventramento di una testuggine, l'uccisione di scimmietta e la molto probabile messa in scena dell'impalamento di un indigena, successiva ad uno stupro ripreso e perpetrato dai ragazzi alla medesima. Quest'ultima sequenza si può intuire grazie alla frase pronunciata da Alan Yates all'inizio del filmato dell'impalamento. Proseguendo con un successivo sorriso di Alan soddisfatto del lavoro svolto con la donna impalata, corretto poi dal collega nella resa della sequenza in chiave più drammatica a favore di camera. Arrivati al finale, nel momento in cui avviene l'uccisione dei reporter da parte dei cannibali, il tutto viene ripreso con la morbosa insistenza di Alan che brama di catturare il reale nella sua peggior forma. La visione di The Green Inferno viene risaltata dall'espediente metacinematografico, poiché questa fruizione avviene in una piccola sala di proiezione, espediente volto a coinvolgere lo spettatore che si sente chiamato in causa, essendo anche lui partecipe della visione delle macabre sequenze. Il filmato di Yates incarna l'estremizzazione violenta della manipolazione nel cinema, il cui fine è il raggiungimento di un livello di reale oltre l'immaginabile. Così facendo, Yates si va però a contraddire dal momento che la violenza mostrata è anch'essa parte di una sua creazione a favore del film. Qui il rapporto tra realtà e finzione raggiunge un punto di non ritorno, dal momento che la percezione di quanto vediamo è disorientante. Se non ci fosse stata la telecamera non ci sarebbe stata la violenza, ma allo stesso tempo la violenza c'è stata a favore di camera. Quindi cos'è reale? Una possibile risposta è che il reale si trovi in ciò che non vediamo, ma se non vediamo non riusciremo mai a capire tutto quello che capita nel mondo. E allo stesso tempo lo spettatore avrà una visione distaccata nei confronti del film. Il regista non solo manipola la pellicola ma manipola lo spettatore, che non riuscirà a separare la realtà dalla finzione. Lungo queste esplorazioni cinematografiche abbiamo assunto diversi punti di vista, senza avere la pretesa di rappresentare il baratro del reale. La finzione vive un'eterna rincorsa alla perfezione rappresentativa su schermo di ciò che vede, sente e prova, sia a livello contenutistico sia a livello qualitativo d'immagine. Il lettore è invitato a non chiedersi se i fatti raccontati siano veri o falsi. Al massimo può essere implicitamente invitato a decidere se gli appaiono abbastanza verosimili. Per l'appunto, spetta agli spettatori la scelta di perdersi nel mare del reale o del filmico, o addirittura confonderli. Sin da piccoli, non conoscendo il mondo, vista la poca enciclopedia che abbiamo, pensiamo che un film di fantasia o un film d'animazione rappresentino una porzione del reale, o il reale nella sua totalità. Crescendo e raggiungendo l'età adulta torniamo nella condizione infantile e ne assumiamo ogni volta una percezione nuova che ci porta a vedere e conoscere il mondo nelle sue varie sfaccettature. Allo stesso modo del regista che vive e scopre la realtà attraverso la macchina da presa, come un ragazzino che vede per la prima volta il mondo che lo circonda. Possiamo chiamare in causa un film come Trollhunter del 2010 di Andre Ovredal, un mockumentary su una troupe di reporter norvegesi che scoprono l'esistenza dei troll. Questa pellicola sintetizza in sé elementi propri a film come Contagion e Cannibal Holocaust. Infatti, il primo lungometraggio, se non si fosse manifestata la pandemia odierna, sarebbe rimasto un film distopico. Il secondo, invece, è un mockumentary. Se in un futuro si venisse a scoprire dell'esistenza dei troll in Norvegia, Trollhunter potrebbe trasformare la sua condizione di mockumentary in quella di documentary. Per concludere questa videotesi, vi lascio con una sequenza del film del 2002 di Spike Jonze, Il Ladro di Orchidee. Sì. Scusi, e se uno scrittore tenta di creare una storia in cui succede poco, in cui le persone non cambiano, non hanno illuminazioni, lottano e sono frustrate e non risolvono niente, rispecchiando il mondo reale. Il mondo reale? Esatto. Il fottuto mondo reale. Prima di tutto, se scrivi una sceneggiatura senza conflitti o crisi, annoierai il tuo pubblico a morte. Secondo, non succede niente nel mondo. Ti sei bevuto il tuo fottuto cervello? C'è gente che viene uccisa ogni giorno. C'è genocidio, guerra, corruzione. Ogni fottuto giorno da qualche parte nel mondo qualcuno sacrifica la vita per salvare quella di un altro. Ogni fottuto giorno qualcuno da qualche parte decide scientemente di distruggere qualcun altro. C'è gente che trova l'amore, gente che lo perde. Cristo Santo, un bambino, vede la madre pestata a morte sulle scale di una chiesa. Qualcuno muore di fame. Qualcun altro tradisce il suo migliore amico per una donna. Se non riesci a vedere queste cose nella vita, allora, amico mio, tu non sai un cazzo di questa vita. E per che cazzo fai sprecare a me due ore preziose col tuo film? Io me ne frego del tuo film. Io non so che cazzo farmene del tuo film. Grazie, signor. Grazie a tutti.